Casarin, la palla nell'angolo, magica per Heidegger! E dall'altra parte arriva Milan Christon, gli fa arrivare una palla magica! Bellissima schiacciata di Derek O'Veide! Qui fa dentro in penetrazione anche, che è tagliato! Baralan Populos è stoppato dal Greco! Direggio un attacca, Carinka! E va a scherziare! Fola! A stopparlo Polpiliga! Attacca a centro aria, cancellato da Atkins! E poi gioca il pallone! Smith, centro aria sotto, Kilo fuori frontale! Atkins per il sopporto! Buona prova! E del vivo da Atkins! Rosa alza, Kamagaze! Chiude l'arcobaleno! Bologna con il pallone dall'altra parte, in versione quarterback! Bellissima. Bolle per ammete di Comedion! Abuttare la difesa olympia! We can be in front! Grazie a tutti.